Teresa 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 L'ultima volta che l'ho visto vivo è stato in una stanza dell'ospedale Dalla Aveva la testa fasciata Si Perché era stato operato Alla testa Aveva la bua Grossa Teresa Però Io ero sicura Che sarebbe guarito presto Eh sì Perché il suo viso era Pieno Come dire Calmo Insomma Non aveva segni di sofferenza Teresa Addirittura Le sue braccia erano ancora Forti Abbronzate Fuori Dal lenzuolo Una volta Aveva guardato i fili della flebo E aveva detto E aveva detto Cos'è che aveva detto? Teresa Sì Ah sì Sembro Un lampadario Sì 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 Io 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 Un giorno Era entrata l'infermiera E gli aveva chiesto Chi sono io? Tu La tartaruga Aveva risposto Poi era entrato un altro Un infermier Un dottore E gli aveva fatto la stessa domanda Chi sono io? Tu Sei Il Commissario Di polizia Di polizia Teresa Per tutti quelli Che gli volevano bene Questo Voleva dire Che era ancora lui Che niente Era cambiato nella sua persona Nel modo Di prendere in giro La propria maniera Di stare al mondo Che nella sua testa Ruotavano ancora Lampadari Tartarughe Commissari di polizia Che E Che 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 Teresa? 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 Teresa 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 Se non chiamate più forte non vi sente Teresa Più forte ho detto Ma siete proprio sicura che sia in casa? Io no Teresa Brutto affare Dimenticato la chiave? La chiave La chiave No, ce l'ho la chiave Teresa Allora perché non salite? Ma non sto mica qui io Sto dall'altra parte della città Teresa Ma allora scusate la curiosità No, no Insomma chi ci sta qui? Ma che ne so io Teresa Ma si può sapere? No, no, perché continuate a chiamare Teresa qua sotto? Eh? Si può sapere allora perché continuate a chiamare Teresa qua sotto? Teresa Voglio sapere perché continuate a chiamare Teresa qua sotto? Ah Ma per me si potrebbe chiamare anche un altro nome O in un altro posto Teresa 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 Per quel che costa? Ma Ma proprio qua sotto? Sarà mica uno scherzo? Uno scherzo? Come? Teresa Sentite Facciamo così La chiamiamo l'ultima volta Tutte insieme E poi ce ne andiamo eh Uno 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 Due Uno Uno Due Due Uno Mettiamoci d'accordo Io conto fino a tre E poi la chiamiamo Va bene? Si 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 Uno Due Teresa 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 Io Le do Buongiorno Io Sono contento Che lei sia qui Ma Lei Ha un gran ritardo Che ne è successo? Che ne è successo?